Ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo, scopriamo insieme la tendenza per i prossimi giorni. Rivolgiamo lo sguardo alla seconda decade del mese di giugno, perché la situazione non è mica molto tranquilla. Guardate infatti come l'anticiclone terrà ancora un po' i suoi massimi più a est sulla penisola palcanica, la Grecia lambirà anche parte del sud Italia, mentre più ad ovest ritroviamo sempre un treno di perturbazioni che ha delle isole britanniche raggiungerà Spagna e Francia, ma potrebbe lambire marginalmente anche le nostre regioni centro-settentrionali. Soprattutto ovviamente il nord Italia, ancora potrebbe essere un periodo tra il 12 e il 15 giugno, con occasione per dei rovesci dei temporali, specie sempre durante le ore pomeridiane e serali. Ma qualche fenomeno potrebbe raggiungere anche il centro Italia, mentre, come dicevamo, più ai margini il sud ha protetto l'anticiclone e con temperature qui sempre da piena estate. Insomma, per quanto riguarda almeno il nord Italia, la situazione rimane a tratti ancora molto dinamica e instabile. Insomma, manca un robusto anticiclone anche nei prossimi giorni. I dettagli più precisi però scaricando l'app di Trebi Meteo.